dov'è il sito? dove sei il pagliasso qua? madonna che brutto signore eh bisogna dire questo è nero il freno è un valore madonna è arrivato lo scarsone guarda che fa da tappo anche guarda che roba prima la strada statale qua sotto quella che abbiamo fatto prima a a a a a a a a Sì, 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 Sì! Sì! Sì, 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 Sì! Sì, 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 Sì! Sì, Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, 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 Sì! 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 Sì! Sì, Sì! Sì! Sì, Sì! Sì, 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 Sì! Sì, Sì!